Aumentare la collaborazione tra i propri sistemi e partner internazionali per ampliare le opportunità di crescita e di sviluppo dei territori e di tutte le loro componenti. È l'obiettivo del memorandum sottoscritto questa mattina tra la Regione Marche, rappresentata dalla Vice Presidente Anna Casini, e la Regione della Bohemia Centrale, rappresentata dal Vice Governatore per lo Sviluppo Regionale, Caler Orcica. Le attività di cooperazioni riguardano iniziative come la partecipazione di esponenti dei rispettivi sistemi industriali ed accademici, a convegni, seminari, eventi espositivi e fieristici. Inoltre, per favorire i rapporti tra le imprese, sono previste visite reciproche di rappresentanti dell'industria e attività formative, attraverso la progettazione di tirocini per il sostegno della conoscenza e del mutuo scambio tecnologico. Anche in campo sanitario potranno essere attivate forme di cooperazione. Le due Regioni sono già legate da un importante accordo di collaborazione firmato nell'ottobre del 2014. I settori coinvolti riguardano lo sviluppo economico, il turismo, l'istruzione, la cultura e la mobilità di studenti degli istituti scolastici superiori a fini sportivi.